Ieri la visita del Premier Paolo Gentiloni a Campli per dar vita in qualche modo ad una nuova epoca, quella della banda larga a fibre ottiche che aiuteranno praticamente anche e soprattutto i piccoli comuni che hanno subito gravi danni dalla sisma di restare al passo con i tempi. Lei ha espresso una grande soddisfazione per questo nuovo inizio? Sì, abbiamo lavorato molto anche come Correcomo in questi anni affinché la pubblica amministrazione, il governo e le regioni potessero comprendere pienamente il valore di questa nuova tecnologia soprattutto per le aree interne, per i piccoli comuni perché ovviamente i grandi operatori del settore investono nelle grandi realtà e quindi se non ci fosse stato intervento pubblico del governo sulle realtà più piccole, minori, vengono definite quelle a fallimento di mercato non sarebbe mai arrivata lì la banda ultra larga perché parliamo di una banda ultra veloce c'è la possibilità veramente di scaricare materiale, film ad altissima velocità ma anche e soprattutto collegare la nuova tecnologia delle imprese, delle aziende con il mondo a livelli competitivi e quindi significa attrarre anche nuove economie, nuove risorse, nuove capacità di investimento. Ecco su questo noi ci siamo giocati una partita fondamentale che non si è chiusa ieri ma viene aperta con il messaggio del Presidente del Consiglio dei Ministri che viene a Campi è un dato storico, non mai era avvenuto prima che in una piccola realtà soprattutto a Campi si fosse avuta la presenza del Presidente del Consiglio ma con tanti altri soggetti forse meno conosciuti al grande pubblico ma tutti che hanno un ruolo fondamentale nel nostro paese Cioè parliamo di Bassanini, non solo è un nome riconosciuto per la sua storia ma è Presidente di Open Fiber, una delle più grandi aziende internazionali che si occupa del settore quindi diciamo si aprono scenari molto interessanti se i sindaci soprattutto saranno in grado di cogliere le opportunità